Le prossime elezioni regionali voterò per Estevino Montino, credo i motivi sono molteplici, in primo luogo credo che sia stata una persona che ha saputo guidare la regione in un momento di grande difficoltà dopo il ritiro del vecchio Presidente e ha saputo tenere le redini di una situazione difficile, continuando però un lavoro che era già stato fatto. L'altro aspetto credo su cui vale la pena richiamare l'attenzione è il lavoro che è stato fatto nell'ambito della sanità, indubbiamente noi sappiamo che la sanità nel Lazio usciva fuori da una serie di scandali, di difficoltà, di spendi economici, abusi eccetera e mi sembra che durante questa legislatura c'è stata la possibilità di riorganizzare e razionalizzare la sanità, nel senso di potenziare alcuni ospedali, evitare la frammentazione che c'era stata in passato legata a piccoli ospedali periferici che nell'attuale situazione non possono più funzionare, che i livelli tecnologici sono aumentati, per cui mi sembra necessario garantire dei livelli adeguati di assistenza sanitaria e nello stesso tempo cominciare a sviluppare soprattutto i servizi territoriali. Credo che questo è un percorso che è stato iniziato e potrebbe essere sviluppato con la prossima legislatura, per questo motivo l'esperienza di Montino maturata in questi anni può essere estremamente utile per il futuro, per razionalizzare ulteriormente e potenziare i servizi della sanità nel Lazio.